Bentornati o benvenuti se siete nuovi sul canale, in quel caso vi invito a iscrivervi. Oggi parliamo di uno dei cartoni Disney più rifatti, credo, nella storia dei film dei cartoni Disney e uno dei miei cartoni, appunto, preferiti, ovvero Pinocchio in live action di Robert Zemeckis. Premetto che a me, solitamente, i live action dei cartoni Disney non piacciono. Cioè, tutti quelli che sono usciti fino ad oggi mi hanno un po' fatto sorcire il naso. La critica che ho sempre fatto alle trasposizioni remake in live action dei film di animazione Disney è il fatto che perdono un po' la loro anima, perdono un po' quell'effetto sognante, cioè quell'atmosfera che ti fa sognare e, nel caso mio, per esempio, che lo vado a vedere, che sono più grande, non mi hanno messo nelle condizioni di tornare bambino e di sognare con gli occhi di quando vedevo Il Re Leone quando ero piccolo, per esempio. Quindi, ogni volta che sento remake in live action, un po' tremo all'idea. Questo, però, ero molto, molto, molto desideroso di vederlo perché, appunto, era scritto e diretto da Robert Zemeckis, che io amo dai tempi di Forrest Gump. E ero molto contento anche per il fatto che continuava il sodalizio che c'era tra Robert Zemeckis e Tom Hanks. Quindi, diciamo, c'erano tutti i presupposti affinché questo film in live action mi piacesse, se non per il fatto che, appunto, era un film in live action. Devo dire la verità, però, a me questo film mi ha fatto sognare. Perché mi ha fatto sognare? Perché mi è piaciuto tantissimo che è rimasto fedelissimo alle atmosfere e alla storia originale, introducendo degli elementi di novità, sia a livello visivo, ma anche proprio a livello di personaggi, quindi di storyline, ha introdotto degli elementi di novità che, però, erano in perfetta armonia con gli elementi originali del film. E quindi non hai l'effetto nuovo che stona, ma sembra quasi che quei personaggi fossero sempre stati all'interno del film. Tutto questo veramente mi ha permesso di ritornare bambino. Ok, voi mi potreste dire, ma anche il Re Leone era così, anche Aladdin era così, vero? Ma qui, non lo so, secondo me Robert Zemeckis è stato in grado di mantenere quelle atmosfere vere e autentiche della storia originale, del cartone originale. Non so cosa ha fatto, non lo so, però veramente io ieri sono tornato bambino e sono tornato a sognare con Pinocchio. A livello visivo, poi, è pazzesco, secondo me. Il grillo parlante, Pinocchio, non sembrano finti, cioè non perdono la loro anima perché hanno voluto esagerare con l'effetto di realismo, come è successo, continuo a dire, con Simba nel Re Leone. Qui non perdono l'anima cartunesca, non perdono quella capacità di far sognare, di far meravigliare. Secondo me questo è un Pinocchio che rende nostalgici noi più grandi che abbiamo visto il Pinocchio originale, ma che riesce a meravigliare gli occhi di un bambino che vede questa storia per la prima volta. Non capisco onestamente perché sta venendo demolito dalla critica. Tutti dicono ha perso la propria anima, nonostante mantenga un po' quegli aspetti inquietanti tipo del paese dei balocchi, eccetera, si perde un po' la magia. Io questa magia l'ho sentita tutta e anzi mi è dispiaciuto il fatto che l'esordio sia stato direttamente su Disney Plus e non al cinema. Ora, io ho la fortuna di avere una televisione grande a casa e quindi me lo sono goduto, ma mi immaginavo alcune scene viste proprio sul grande schermo in sala sarebbero state pazzesche. E invece questo è uno di quei esempi in cui le piattaforme streaming purtroppo a volte prendono il sopravvento e io mi immagino chi magari è costretto a vederselo nella propria cameretta col computer e si perde, forse in quel caso veramente si perde un po' la magia. Forse Robert Zemeckis è stato, ripeto, il primo a farmi piacere un film d'animazione Disney in live action e quindi sono proprio contento, sono contento perché avevo paura prima di iniziare questo film e ne sono uscito meravigliato, contento e sono andato a dormire con gli stessi pensieri di quando ero bambino. E quando succede questa cosa veramente è magia secondo me. Sono contentissimo quindi non posso far altro che consigliarvi di vedere questo film. Ve lo consiglio ovviamente se avete una televisione, se avete una tv grande e vedetevelo in tv, se invece ve lo dovete vedere necessariamente al computer fatelo lo stesso, magari mettetevi delle cuffie che vi permettono di entrare un po' più dentro il mondo, ma vi assicuro che le atmosfere comunque, viste su uno schermo piccolo, grande, comunque sono talmente belle che vi rapiranno, le musiche sono talmente belle che vi rapiranno, vi metteranno per un'ora e cinquanta dentro il mondo di Pinocchio e vi faranno uscire bambini, sognanti e felici. Io vi ringrazio per aver avuto la voglia e la pazienza di guardare questo video, vi invito come sempre a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessun contenuto, vi invito inoltre a lasciare un like, cosa per me davvero importante, il canale sta crescendo poco a poco e sono contentissimo di questo, quindi facciamo capire a YouTube che questa community e questo canale è vivo e vale. Vi invito anche a lasciare un commento, in questo caso non vi dico uno spoiler perché la storia è così nota che non c'è rischio di spoilerare, quindi fatemi sapere se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, cosa vi ha convinto, cosa non vi ha convinto, insomma instauriamo un po' di dialogo qui nei commenti o se mi volete contattare su Instagram ne possiamo anche parlare lì, quindi seguitemi su Instagram e contattatemi in direct. E io vi aspetto a un prossimo video, daglie!